Buonasera dalla bussola, buonasera dall'onda. Prendiamo la linea dopo aver ascoltato il discorso del Presidente Obama, gli Stati Uniti vivono un momento complicato, il richiamo del Presidente Obama ai valori, al coraggio, alla reazione di un popolo e anche qui nel Regno Unito è un momento molto importante perché giovedì prossimo il 23 si voterà per il referendum che potrebbe far uscire la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Io vi faccio vedere subito quello che è il titolo di uno dei tabloid più letti, forse il più letto del Regno Unito, il Sun, Believe in Britain, Credere nella Gran Bretagna. Però la parola Leave vuol dire lasciare, questo è il gioco di parole di un tabloid che invita apertamente a votare contro la permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Questo è il clima di queste ore con i sondaggi che cambiano di momento in momento ma sembrano avere un'inerzia che si orienta verso il no alla permanenza dell'Unione Europea. Come ci racconta in diretta da Westminster che è qui a pochi passi e che è la sede della House of Commerce del Parlamento inglese, il collega, corrispondente da Londra e il nostro padrone di casa Marco Varvello. Siamo proprio qui all'ingresso del Parlamento di Westminster perché il clima politico è decisamente cambiato negli ultimi giorni come sono cambiati i sondaggi. Ormai danno abbastanza costantemente in vantaggio il fronte Brexit, cioè per lasciare l'Unione Europea. C'è stato ieri sera questo sondaggio del Guardian 52 a 48. YouGov, un'altra agenzia importante, dà addirittura 6-7 punti di vantaggio a chi vorrebbe uscire dall'Unione Europea. Un po' è la conferma del tradizionale euroscetticismo dei britannici, un po' però è anche la conseguenza direi di una campagna elettorale che vede nessuno davvero parlare positivamente di Europa, del progetto europeo, dell'essere membri di questa Unione Europea. Non lo ha fatto Cameron che di suo è abbastanza euroscettico ed è lo stesso Cameron, anche se adesso chiede ai suoi elettori di rimanere nell'Unione Europea. Lo stesso Cameron dicevo che un anno fa trattava con Bruxelles dicendo beh ce ne possiamo anche andare. E addirittura anche i laboristi che sono tradizionalmente assieme ai sindacati a favore di arrestare nell'Unione Europea, sono adesso guidati da un leader come Jeremy Corbyn che è sia a favore di arrestare l'Unione Europea ma fino a un certo punto. L'altro giorno addirittura richiesto durante un dibattito televisivo, ma se davvero era così, ha detto beh al 70% lo sono. In questa situazione davvero i sondaggi non stupiscono. A te Donato. No Marco, grazie. I sondaggi non stupiscono e lo dimostra anche il clima che si respira tra i londinesi, che siamo andati ad ascoltare anche questa mattina per sentire come la pensano a proposito di Brexit. Sono personalmente fortemente favorevole a rimanere. La parte della Gran Bretagna è proprio fortemente in Europa, doveva esserci anche prima, dovevamo essere lì sin dall'inizio. E io sono molto contrario a lasciare. Penso che le conseguenze sarebbero disastrose. Io penso che il Brexit è un vivere in un paese di fantasia, perché ci chiede qualsiasi cosa che si dice contro. Bisogna pensare invece ai fatti, alla realtà, avere dei piani sensati su come si potrebbe sopravvivere. Certo, rimanere tutti insieme. Preferisce rimanere in Europa o uscire? Uscire. Io penso che la cosa che mi preoccupa è il potere della Commissione europea, che fondamentalmente non è eletta. E non sono certo che il Parlamento europeo abbia sufficiente autorità su di lei, sull'orientamento che ci può dare. E perciò non sono sicuro che si possa riformare la Commissione. Nuova Zelanda? No, sono australiano, sono nato in Nuova Zelanda. E veramente, io penso che dovrebbe stare sola la Gran Bretagna, anche se bisogna riflettere, essere prudenti. Perché quando è stato formato il mercato comune, la Nuova Zelanda e l'Australia sono rimaste lì, bisogna riflettere. Vorrebbe rimanere nell'Unione europea? Sì, sì, rimanere. Grazie. Allora, l'ombrello con le stelle che simboleggiano l'Unione europea la dice lunga, sull'opinione della nostra intervistata, ma la dice lunga anche alto. Cioè i dubbi e comunque chi pensa che il rapporto con l'Europa vada in qualche modo riformato. E questo potrebbe essere anche un segnale. Questo è un paese di bookmakers, si scommette su molto, quasi su tutto, è anche un paese di soldagisti. Per questo il nostro titolo di oggi è appunto Brexit Pulse. E allora noi abbiamo ascoltato uno molto autorevole che aveva tra l'altro anticipato ciò che ieri scriveva il Guardian e oggi il Times. Si chiama Shakespeare e anche qui richiama questa lotta shakespeariana tra due fratelli coltelli, come sono in questo momento Boris Johnson, leader del fronte del No, e Dave Cameron che invece sostiene il sì. Ascoltiamo Shakespeare. Abbiamo fatto un sondaggio telefonico che dà i pro-Brexit in vantaggio di quattro punti, altri danno uno scarto diverso, ma è ancora molto incerto. Ma quanto sono attendibili? Divergono tra sondaggi telefonici e via internet. La differenza era più rilevante qualche settimana fa, poi abbiamo corretto il bacino delle rilevazioni. Ci siamo accorti che nei campioni telefonici c'erano troppi laureati, una fascia di popolazione, che tende a essere più favorevole a restare in Europa. Come categorie, chi è più probabile a favore o contro Brexit? Il risultato finale dipenderà molto dall'affluenza alle urne. Ci sono profonde differenze nelle intenzioni di voto, ad esempio tra anziani e giovani. Gli anziani sono più favorevoli a Brexit e sono anche quelli che di solito vanno più a votare. I giovani, al contrario, sono pro-europei, ma hanno una minore propensione al voto, almeno nelle elezioni politiche. Gli scozzesi poi sono decisamente filoeuropei e lo stesso vale per Londra e i londinesi. È un quadro complesso. L'affluenza alle urne sarà determinante. La mia esperienza è contro, se volete, la Gran Bretagna profonda. Interviene sul tema di Brexit anche il presidente dell'Eurogruppo, Disselblom, e dice che non è mai una buona cosa minacciare gli elettori promettendo sfracelli nel momento in cui, appunto, come è il caso che stiamo vivendo in questi giorni qui a Londra, la Gran Bretagna potrebbe uscire dall'Unione Europea. Sentiamo le parole di Disselblom. La mia esperienza è che nel referendum che abbiamo avuto in Olanda è che una cosa che non funziona è minacciare gli elettori e dirgli quale cose terribili succederebbero se facessero una certa scelta. Non penso sia un buon approccio. Penso che la questione chiave nel Brexit riguarda la migrazione. La questione migrazione non si allontana se si esce dall'UE. Ci sarà sempre una questione molto forte per la Francia, il Regno Unito, per lavorare insieme sulla questione del canale della manica. Per me non basta che il Regno Unito rimanga membro. Vorrei che diventassero un membro attivo di nuovo, proprio in primo piano nel cambiare e migliorare quello che facciamo qui. Allora, così il presidente dell'Eurogruppo, ovviamente, come ieri abbiamo fatto con Parigi e con Bruxelles, un attore e uno spettatore molto importante in questi giorni è la Germania. Quindi ci colleghiamo immediatamente con la nostra corrispondente Nicoletta Manzione. Sì, buonasera Donato. La Germania guarda con attenzione e potremmo dire con preoccupazione quello che sarà l'esito del referendum in Gran Bretagna. Si prevedono le conseguenze sia politiche sia economiche in caso di uscita appunto della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Il ministro delle finanze Schäuble già la scorsa settimana ha usato parole molto dure dicendo che non ci saranno nuove negoziazioni per il mercato unico con la Gran Bretagna in caso di vittoria del no. E comunque, come da pragmatismo tedesco, già si cominciano a fare i conti di quelle che potrebbero essere appunto le conseguenze economiche di una possibile uscita. L'80% degli imprenditori tedeschi è contrario alla Brexit e si calcola che potrebbe costare quasi 3 punti percentuali di PIL l'uscita appunto dall'Unione della Gran Bretagna sia per la produzione industriale e la produzione delle grandi multinazionali e inoltre per quanto riguarda anche specialmente le esportazioni. E poi nelle ultime ore si torna all'obiettivo, il focus sulla BCE. Infatti sembra, secondo indiscrezioni che sono trapelate questa mattina, che ci siano stati dei contatti tra i vertici della BCE e il governatore della Banca Centrale britannica per prendere delle misure che mettano a disposizione una sorta di cambio flessibile per cercare, a partire dal 23 notte, per cui in riapertura dei mercati, per cercare di tamponare o quantomeno evitare delle grosse speculazioni sulle valute, in particolare sulla sterlina. Quindi è evidente che una possibile vittoria del no stravolgerebbe o comunque potrebbe avere delle pesanti conseguenze sui vari settori che sono fondamentali per la Germania. A te. Grazie, grazie Nicoletta Manzione. Benvenuto a John Lloyd, editorialista del Financial Times e collaboratore anche di Recubblica, con cui scrive spesso in copyright. Allora, John, hai sentito i timori della Germania, che sono timori anche economici, ma io ti chiedo, prima di tutto, l'aria che tira, insomma, da che parte sta andando questo voto così importante per il tuo paese? La posizione di Gran Bretagna adesso è molto difficile, naturalmente, ma che cosa le ha in mente? Tu pensi che in questo momento sia davvero favorito a Brexit? Sì, credo di sì, perché non solo per i sondaggi, ma anche l'entusiasmo, l'entusiasmo è nel lato dei Brexiteers, fortunatamente, io credo, ma c'è qualcosa, forse patriotico, nazionalista, un po', e prima di tutto anti-immigrazione. Questo è il movimento della popolazione. Quindi l'inerzia è sull'immigrazione. Il problema più sentito è quello dell'aumento dell'immigrazione. Qui stiamo vedendo Cameron che risponde nei Question Time alla House of Commons. Io ti farei vedere però adesso anche delle altre immagini che riguardano il 1975, cioè il momento in cui la Gran Bretagna votò per entrare nell'Unione Europea. sono passati 41 anni, no? Sì. E allora anche la Thatcher, che pure non era certamente una donna di sinistra, però era tutt'altro che sfavorevole al fatto che l'Inghilterra, certo con le sue regole, mantenendo la sua moneta, però entrasse nel mercato comune. Sì, credo che è molto difficile per Gran Bretagna. Credo che gli italiani e gli altri europei devono capire che noi siamo naturalmente ovviamente una isola con un Parlamento, con una tradizione molto lunga, una storia diversa, molto diversa dagli altri, e per questo è difficile essere un buon europeo. e adesso è ovvio che questa questione dell'immigrazione è al centro, al centro dei preoccupanti della popolazione, dell'elettorato. Allora, abbiamo detto, abbiamo cercato di guardare un po' gli spettatori, che sono ovviamente spettatori molto interessati, i maggiori partners europei, la comunità europea, l'Unione Europea, la Francia, la Germania, ma anche l'Italia, perché il Presidente del Consiglio Renzi è intervenuto spesso sulla questione di Brexit. Come ci racconta in un minuto il nostro corrispondente da Palazzo Chigi, Sanio Bonini. Buonasera Donato, proprio così molte volte quelle in cui Matteo Renzi ha parlato di Brexit. L'ultima quattro giorni fa, di fronte ai giovani industriali, il senso, ha detto Matteo Renzi, sarebbe una sciagura per l'Unione Europea, per la Gran Bretagna, forse anche per l'Italia, ma non senz'altro nel medio-lungo periodo. Un resoconto di quanto è successo in questi mesi. Il Consiglio Europeo di febbraio, quando Cameron negoziò una partita molto difficile sulle condizioni perché tornasse in Gran Bretagna e dicesse ai suoi concittadini rimaniamo nella Unione Europea. In quell'occasione Renzi si spese moltissimo insieme in particolar modo alla cancelliera tedesca Merkel. Si intrecciò pericolosamente la trattativa sulla questione migranti, ma Cameron riuscì a portare a casa quelle condizioni migliori per quanto riguardava l'arrivo dei cittadini europei in Gambetagna che non avrebbero beneficiato del welfare da lì a sette anni. Altra considerazione, Renzi ha parlato qualche giorno fa anche di Nexit, vale a dire dell'uscita dell'Olanda da parte dell'Unione Europea. In quel caso ha detto sarebbe una sciagura per Amsterdam, non lo sarebbe per l'Unione Europea, non lo sarebbe per l'Italia, proprio a marcare una differenza forte nel peso economico e politico tra i due paesi. Donato a te. Grazie al segno Bonini che ci hai raccontato in pochi titoli la posizione dell'Italia. John, allora, intanto ieri abbiamo sentito Peter Mandelson e Boris Johnson, insomma il laburista illuminato con una lunga storia di rapporti dell'Unione Europea, è stato anche commissario e invece il conservatore che in questo momento sta giocando una sua battaglia politica anche personale per la leadership del partito e del governo. Oggi facciamo ascoltare ai nostri telespettatori due interviste importanti, altrettanto importanti, che ha realizzato Marco Ravello. Uno con Farage, che è il leader del UKIP, il partito di estrema destra che in questo momento gode di grandi consensi in Gran Bretagna, e l'altro con il leader di un partito storico che poi è stato poco al governo per il tipo di sistema elettorale qui in Gran Bretagna, ma che ha comunque un suo seguito importante, cioè i liberal-democratici. Farron, ascoltiamo queste due interviste. Semplicemente non riusciamo più a far fronte al numero di persone che vengono nel nostro paese. È ormai necessario costruire una casa ogni sette minuti. La popolazione nel Regno Unito aumenta di mezzo milione ogni anno e ci si chiede come mai non ci sono abbastanza case o posti nelle scuole e negli ospedali. Dobbiamo riprendere il controllo su questa situazione. Ma siete già fuori da Schengen, non vi attiamo. Potete controllare gli ingressi? Per venire nel nostro paese certamente occorre mostrare il passaporto, ma ci sono comunque 500 milioni di persone che se vogliono possono liberamente entrare in Gran Bretagna. Nei primi 20 anni dell'Unione Europea abbiamo concordato un'unione economica e politica con l'Italia, la Francia, la Germania e l'Olanda. Questi paesi avevano standard di vita ragionevolmente simili ai nostri e nessuno era veramente preoccupato del movimento di persone. L'errore è stato quello di permettere a dieci ex paesi comunisti i quali non avevano ancora compiuto appieno la transizione democratica di entrare nell'Unione. Il salario minimo in Gran Bretagna è di nove volte superiore a quello della Romania. Sono sinceramente preoccupato che la Gran Bretagna possa lasciare l'Unione Europea. Credo che essere membri europei porti vantaggi sia a noi britannici sia all'Europa. È molto meglio affrontare i problemi comuni insieme, seduti allo stesso tavolo con gli alleati come l'Italia e gli altri 27 paesi dell'Unione. Stiamo molto meglio come inglesi ed europei. I favorevoli a Brexit, chiediamo, cavalcano i problemi in migrazione. È una paura ingiustificata oppure ha un fondamento? Penso che sia davvero una paura ingiustificata. In fondo ci sono sì due milioni di stranieri che vivono e lavorano qui, ma anche un milione e 300 mila britannici che vivono e lavorano sul continente. Insomma, non c'è poi un grande squilibrio e se uscissimo dall'Unione ma volessimo restare nel mercato unico dovremmo comunque accettare una certa libertà di movimento per le persone. La paura dell'immigrazione è esagerata, è un fenomeno storico che si può gestire e porta anche ricchezza nel nostro paese e fuori dall'Europa non si fermerebbe comunque. che è molto più che una cursa ma anche penso che probabilmente non potremmo cambiare il sistema anche se si riuscite. Allora, John, due opinioni diametralmente opposte. Farage che parla, diciamo così, dei paesi ex comunisti, dei salari mini e dall'altra parte Farron che guarda comunque il lato positivo della medaglia, come si dice. In tutto questo però c'è stata la scelta di Cameron che ha contrattato con l'Unione Europea una serie di misure che tra l'altro e oggi gli ha dato ragione su questo alla Corsa di Giustizia Europea hanno compresso il welfare state per gli immigrati qui in questo paese e forse adesso si rende conto dimmelo tu che ne sai molto più di me che c'è stato un effetto boomerang in quella sua scelta che è stata una scelta magari anche un po' pressata dal fatto che a destra ci fosse lo Jukip che lo premeva. Sì, una scelta per fare un referendum. Adesso io credo che lui, che Cameron, pensa che lui ha fatto male per fare questo referendum. C'era un grande problema all'interno del partito conservatorio ma adesso forse è la fine della sua carriera politica e l'inizio della carriera di Boris Johnson che sarebbe probabilmente il prossimo primo ministro. Eh sì, e qui l'abbiamo detto anche ieri però torniamoci per un secondo. Abbiamo usato il termine shakespeariano perché è un conflitto tra persone che si conoscono da sempre che hanno vissuto nello stesso ambiente sono figli della classe diciamo così più ambiente del Regno Unito hanno avuto le scuole migliori hanno fatto un corso anche un corso sonorum molto simile Boris Johnson è stato sindaco di Londra e tant'è che qualcuno pensava anche ad un incarico per lui nel governo proprio per far sì che non prendesse una posizione così netta su Brexit ma così non è stato Non è stato Penso che Boris Johnson deve fare una decisione lui ha avuto una carriera che era come lei ha detto come il sindaco di Londra ma anche un giornalista e lui ha E anche uno scrittore Un scrittore lui scriveva rubriche molto buffe e adesso lui deve fare una decisione di divenire un politico serio non so se lui l'ha fatto o se lui può farlo ma è una grande decisione per lui e anche per il partito conservatore e anche per la nazione Intanto deve vincere Brexit e vediamo che cosa succederà il 23 giugno Ovviamente una parte molto importante nella decisione ma anche qui insomma sembra che stia cambiando l'aria da alcuni pareri che abbiamo raccolto in questi due giorni rondinesi insomma anche gli ambienti finanziari quelli della City quelli che poi dovrebbero contare molto moltissimo proprio per le moltissime implicazioni economiche che hanno sono più preoccupati molto più preoccupati di una settimana fa questa intervista è con il responsabile per l'Europa della City Brown e noi l'ascoltiamo Qui nella City di Londra c'è una larga maggioranza che vuole restare in Europa le ragioni sono sostanzialmente due chi lavora nel settore finanziario considera fondamentale avere accesso al mercato unico europeo Londra è la maggiore piazza finanziaria in Europa il secondo motivo riguarda i timori per l'incertezza sul futuro in caso di Brexit l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea porterebbe infatti a ridiscutere tutti i trattati e le norme di libero scambio si aprirebbero negoziati su tutte le normative e gli standard di mercato sarebbe un lavoro incredibile e incerto alla City quasi tutti sono convinti che il sistema in vigore sia il migliore non va distrutto allora John dicevamo due Gran Bretagne che si scontrano quella profonda molto per l'uscita quella delle aree metropolitane più colte che invece più europeista e poi i giovani che sono per definizione in larga parte in maggioranza europeista e invece gli elettori più anziani che lo sono di meno in tutto questo quanto peso può avere ancora la forza economica e anche diciamo così di pressione sull'elettorato della City oppure questo è un voto che va come si dice per conto suo credo che che dipende sulla possibilità di votare per i giovani i giovani usualmente non votano come i vecchi adesso non so se loro hanno capito l'importanza di questo voto c'era un referendum in Scozia sei sette mesi fa era molto importante per i scozzesi adesso c'è un certo un certo pensiero che non è così importante in or out questo non è non è per noi per noi pensano non è per noi molto molto importante non sono europei come italiani francesi tedeschi sono un popolo un po' diverso dagli altri e quindi per la popolazione il voto non è così grave così centrale nella vita allora c'è un ultimo contributo che vi proponiamo ed è l'intervista che Marco Varvello ha realizzato con l'ambasciatore italiano a Londra Terraciano perché qui c'è una comunità enorme di italiani 500.000 persone che vivono e lavorano soltanto nell'area metropolitana di Londra più tutti gli altri che sono sparsi e sono molti in giro per la Gran Bretagna allora la preoccupazione la domanda è nel caso in cui vincesse Brexit che cosa cambia ecco qui sentiamo Marco Varvello l'ambasciatore Terraciano sappiamo che ci sono tantissimi italiani oltre mezzo milione che vivono nell'area di Londra che conseguenze ci sarebbero da un'uscita della Gran Bretagna proprio per i nostri connazionali che vengono qui per studiare per lavorare nell'immediato non ci sarebbe nessuna conseguenza questo per due motivi in primo luogo perché il Regno Unito in caso di vittoria del Brexit dovrebbe attivare l'articolo 50 per negoziare nell'arco di due anni un'uscita dall'Unione Europea e quindi chiaramente nell'arco di questo negoziato verrebbero definite anche le posizioni dei cittadini degli altri paesi membri secondo motivo che comunque vale il principio dei diritti acquisiti che non dovrebbero essere messi in discussione diverso il discorso sarebbe per gli italiani che poi in futuro vorrebbero venire a stabilirsi qui quindi si rischia il ritorno di visti sul passaporto di permessi di soggiorno e permessi di lavoro certo sarebbe un salto indietro nel tempo e credo spero che tutti si rendano conto di come questo sia al di fuori di qualsiasi logica e già sarebbe davvero un salto indietro nel tempo lo stamp sul passaporto il permesso di lavoro da rinnovare controlli cose che avevamo completamente dimenticato e che rischiano tu conosci bene l'Italia si sente anche dal tuo italiano è un rischio che si corre perché ieri Boris Johnson a Marco Varvello ha detto gli italiani saranno sempre bene accetti però sono parole poi che succederà secondo te veramente spero di sì perché mia mole è italiana e spero che lei è sempre benvenuta sarebbe credo che lui ha ragione in senso che non ci sono grandi barriere non ci saranno vise eccetera ma sarebbe più difficile per esempio se la Scozia vota per per rimanere e l'Inghilterra contra forse ci sarà deve essere un barriere controlli tra Scozia e Inghilterra tra la Repubblica Irlandia e Irlandia del Nord questo è assolutamente possibile in effetti è necessario se c'è un voto così allora io ringrazio molto John Lloyd di essere stato con noi editorialista del Financial Times lo leggiamo spesso anche su Repubblica in Italia ringrazio davvero tanto Marco Varvello che è il capo della sede di corripendenza della RAI di Londra e tutti i colleghi che hanno lavorato con noi in queste due giorni londinesi abbiamo cercato di capire di più ci sono tante notizie in questo momento in giro per il mondo drammatiche e anche qui è una settimana molto importante per il futuro di questa nazione grazie per averci seguito non perdete la bussa domani alle 18.30 in diretta però dagli studi RAI di Saxarubra buona serata grazie a tutti grazie a tutti